Ehi bella gente, il doc e la sua mazza sono qui presenti. Allora, giusto così per parlare, parliamo di quel... Boh, minchione, forse minchione, forse minchione, eh? E' l'offesa minore che ti posso fare, per non essere querelato. Allora, stramaccio, Matteo, nel calcio, ma chi cazzo ti ci ha messo? Chi? Bah, mi darei una botta, ti ti ha messo nel calcio? Ma come calciatore, non penso neanche che tu abbia mai giocato, anche perché se hai giocato facevi talmente cagare che non ti conosceva nessuno. E come allenatore eri ancora peggio! Sei ancora peggio! Cioè fai cagare! Tu, tu stai al calcio, eh? Come una vergine sta al porto. E al porto, al porno. La vergine sta al porno come tu stai al calcio. Capisci? Ma come cazzo... Allora, Cassano sia un grande... è stato un grande giocatore, è stato un grande fantasista. Nessuno lo mette in dubbio. Ma come cazzo fai a paragonarlo con Del Piero? Ma come cazzo fai a paragonarlo con Del Piero? Te lo metti! Non l'ho presa! Mica, andiamo a tiappare! Andiamo a tiappare! Andiamo a tiappare! Ma come cazzo fai a paragonarlo con Del Piero? Come? Come cazzo fai a paragonare Cassano con Alessandro Del Piero? Dimmi un po', a Cassano gli hanno mai inventato il gol alla Cassano? Non mi sembra. C'è il gol alla Del Piero. Vuol dire che facevamo un gol clamoroso. Dimmi, dimmi. A Cassano gli hanno mai fatto la standing ovation al Bernabeu? E ci ha anche giocato? Non mi sembra. A Del Piero da avversario. Solo due calciatori nella storia... Anzi, tre. Solo tre calciatori nella storia hanno fatto la standing ovation in Real Madrid. Totti, Del Piero e Ronaldinho. E adesso tu me lo vuoi paragonare a Cassano. Che per l'amor del cielo! È stato un grande fantasista! Quello che vuoi, quello che vuoi. Ma non è neanche un'unghia morta di Del Piero. Ma io dico, ma... Lasciamo perdere il fatto della Juve disdetta ad Azzon. Ma grazie a Dio! Se non succedeva il coso della Juve, Ma l'avrei tolta lo stesso di iscrizione. Perché è un programma... Peggio di tic-tacca con Vandanara! Peggio! Ma che gente c'è che fa l'opinionista? Matri! Pazzini! Stramaccioni! Che non so dove si è andati in Turchia e in Arabia! BAM! Abbassonate! T'han presa! Ma stramaccioni! Ma che vinello ti bevi prima di andare in trasmissione? Dimelo che lo compro anch'io! Così mi rincoglionisco e vado a letto! Ma come cazzo si fa di che Cassano è più forte di Del Piero? Come? Porca di quella... Porca di quella... Porca! Come si fa? Manco Cassano lo direbbe mai una cazzata così! Manco Cassano! Cioè raga il gol che Del Piero fa perché tu poi hai parlato di giocate! Ah le giocate di Cassano! Innanzitutto! Del Piero! Prima dell'infortunio era il più forte italiano di tutti! Più di totti e di baggio! Dite quel cazzo che volete eh! Se non l'avete visto giocare! Zitti! Prima dell'infortunio Del Piero è stato il più forte italiano che si ha mai esistito! Il più forte! Poi dopo l'infortunio è vero! Ha avuto degli alti e bassi! Quello che vuoi! Ma rimane sempre pinturicchio! Rimane sempre pinturicchio! Guardate che pari di giocate! Quello che ho visto fare a Cassano! Perché quello che ho visto fare a Del Piero? Il gol con la Fiorentina! Il gol con lo Zenit in Champions League! Il gol con Real Madrid della Stending Ovation! Il gol con il Dortmund! E potrei continuare all'infinito! Pari di giocate! Assist! Ma te ne dico solo una! Che batte tutti gli assist di Cassano! Juve Milan! Del Piero di rovesciata! Cross in mezzo! Assist per Treseguet! Cassano l'hai mai fatto? No! No! Non l'ha mai fatto! Ma perciò di che cazzo parli? Ma vergognatevi di portare in tv gente come stramaccioni! Ma tu manco il gelataio puoi andare a fare stramaccio! Tu manco il gelataio puoi andare a fare il bidello! Ma sei un insulto per i bidelli! Tu sei un'idiota! Tu sei qualcosa di scandaloso! Sti programmi sono qualcosa di scandaloso! E lasciate perdere il disdettadazzo lo Sky per cose della Juve! Ma quando sentite delle cose così anche tu tifoso avversario! Ma non ti scendono le palle! Perché puoi essere anti-Giuventino! E' quello che ti pare! Ma su Del Piero lo sai anche te! Lo sai anche te che hai esultato! Nel gol con la Germania! Te lo ricordi? Te lo ricordi il gol con la Germania? Quanto hai esultato? I lacrimeri! Per Del Piero! E poi non puoi dire un cazzo a livello di uomo e di giocatore! Alessandro Del Piero! Alessandro Del Piero! Fammi un favore stramaccio! E' tutta Dazzo! Quando parlate di Alex! Sciacquatevi quella bocca di merda! Perché se no porca puttana! A forza di mazzate! Bacione dal Doc! E dalla mazza del Doc! Non la fate arrabbiare la mazza del Doc! Iscrivetevi! Dile anche te! Iscrivetevi! E vi si incazzate due! Ciao!